A te la parola. Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità. Oggi parliamo di mobile, inteso mobile security. Alcuni di voi probabilmente conoscono già Mobile Iron, è un'azienda nata dieci anni fa per quello che si chiamava MDM. Siamo rimasti nel nostro settore gli unici a fare, a occuparci esclusivamente di questo ambito e in particolare abbiamo continuato negli ultimi anni a innovare, in particolare nell'ambito della sicurezza. Il progetto di cui vi parlo oggi è un progetto che abbiamo realizzato per una grande banca italiana che aveva l'esigenza fino all'anno scorso di proteggere i device mobili dagli attacchi, attacchi mirati e attacchi non mirati. Di fare la remediation in tempo reale. Quello che distingue le piattaforme mobile da i PC che voi siete abituati a utilizzare è che la remediation nel mondo mobile la fa l'MDM. È l'unico componente che è in grado e ha le autorizzazioni, per esempio, per togliere i dati aziendali dal dispositivo. Il requisito fondamentale era che questa cosa non avesse nessun impatto sulla user experience. Voi sapete che gli utenti con la consumerization sono abituati a trattare il device, anche se aziendale, come un oggetto personale e quindi è molto difficile dare loro degli strumenti di security che ne limitino la user experience. Il risultato più pratico che succede se provate a farlo è che l'utente cambia dispositivo o trova una qualche scappatoia. La considerazione di partenza è che negli ultimi anni, con la diffusione dei device mobili in azienda, le vulnerabilità sui sistemi mobili, parliamo di iOS ed Android, sono letteralmente esplose. Nel 2017 sono state più di 1200, di cui più della metà 620 di livello 7 o superiore. Questo vuol dire che in qualunque momento è possibile sfruttare una vulnerabilità per accedere ai dati e alle password salvate su un dispositivo mobile. Questo problema esiste e non è tanto la preoccupazione delle aziende quella di difendersi dal malware che pur ogni tanto appare negli store di Apple e di Google. L'ultimo caso è stato alla fine dell'anno scorso, sono riusciti a pubblicare un clone di WhatsApp su Google Play e prima che Google lo rimuovesse l'hanno scaricato un milione di persone. Quello tenta ad andare a prendere i dati dell'onbanking degli utenti. Qui parliamo invece di attacchi mirati. Quindi questo è un esempio, a fine dell'anno scorso è stato rilevato in Italia, usato per attacchi mirati in Italia, un malware in grado di accedere per esempio alla posizione del dispositivo e attivare il microfono quando l'utente è in una certa posizione. Tra gli altri comandi, poi senza entrare troppo nel dettaglio, il tema è proteggere i dati aziendali da attacchi che sono estremamente facili da realizzare nel mondo mobile. L'attacco più facile da fare nel mondo mobile è il Man in the Middle, attacco ovviamente stranoto nel mondo PC ma molto più facile nel mondo mobile perché i vostri telefoni mandano in broadcast l'informazione dell'ultimo wifi a cui si sono connessi. Quindi basta andare nel bar sotto l'ufficio, con un oggetto che si chiama Pineapple, si ascoltano le reti mandate in broadcast dei telefoni e con un click si pubblicano tutte quelle reti. I telefoni automaticamente si collegano all'access point compromesso. E a quel punto parte l'attacco Man in the Middle. Io di solito, oggi non la posso fare per problemi evidenti di tempo, faccio vedere un video in cui con un iPad in iOS 11 pulito, non jailbreccato, un solo click dell'utente è sufficiente per dare all'attaccante controllo completo sul dispositivo. L'utente è root, l'attaccante è root sul dispositivo, vede le password salvate, vede tutti i dati, può fare screenshot. Questo è una cosa ovviamente estremamente pericolosa e estremamente facile da realizzare. Altri attacchi sono possibili sui device mobili, per esempio quando gli utenti, poniamo il caso consulenti, gli viene data una wifi da cui non possono accedere a certi siti, scaricano app con VPN gratuite. VPN gratuita, certificata SSL, l'attaccante ha accesso completo al dispositivo. Oppure ancora, quando all'utente viene inviato, per esempio, un malware, un link da cui scaricare un malware e viene convinto in qualche modo a fare click su quel link e di nuovo il malware diventa root sul dispositivo e può prendere tutti i dati. Cosa abbiamo realizzato noi? Abbiamo integrato nel client MDM la componente anti-malware. Questo è molto importante perché vuol dire non avere un altro client da distribuire e soprattutto questo altro client, che andrebbe altrimenti distribuito, andrebbe anche attivato da parte degli utenti. Quando ho fatto questa presentazione di recente, un cliente non torna a me e mi mette c'è entrato il problema. 2000 device, 1000 utenti non hanno mai cliccato il link dell'app anti-malware e quindi di fatto non riusciamo a proteggerli. Chiamarli uno a uno non è molto pratico. Siamo in grado di proteggere tramite un motore di intelligenza artificiale, machine learning, da attacchi conosciuti e non conosciuti. Quindi siamo in grado di bloccare anche gli attacchi non ancora conosciuti e di rimediare immediatamente sul device perché il client MDM ha già a bordo la policy che gli consente di fare la remediation immediata. Questo è il funzionamento con una qualunque altra soluzione anti-malware anche con un mobile iron come MDM. La detection viene fatta da un server in cloud che poi dice al server MDM di al tuo cliente di fare la remediation. Ci vuole un sacco di tempo e se il malware root può semplicemente bloccare il traffico in ingresso dal server MDM. Nel nostro caso invece l'app si accorge che c'è qualcosa che non va, un'app che si sta comportando in un modo anomalo, diverso dalla baseline e ha già a bordo la policy che gli consente di fare la remediation offline. Quindi una sola app, non c'è bisogno di distribuire l'altra app, di distribuirla e di farla attivare agli utenti e soprattutto l'app nel caso di iOS non può essere parcheggiata in iCloud, cosa che con iOS 11 altrimenti è possibile. Non c'è bisogno di nessuna azione da parte dell'utente, l'utente mediamente non si accorge della nostra presenza sul dispositivo e proteggiamo dagli attacchi Zero Day. Perfetto, grazie mille. Grazie mille.